Alvia la campagna vaccinale anti-influenzale 2019-2020 su tutto il territorio nazionale. Pochi giorni e il vaccino già presente nelle farmacie verrà consegnato anche a pediatri e medici di base. La popolazione a cui è rivolto, per cui è consigliata una copertura, è la medesima di ogni anno. Categorie a rischio, anziani sopra i 65 anni e donne in gravidanza. Una novità che ho già comunicato ai medici di medicina generale e anche ai pediatri è che utilizzeremo due principali vaccini, due fondamentali vaccini di comprovata efficacia senza nulla tollerare gli altri, ma si parla di un vaccino che va a coprire i due sottotipi più comuni di virus di tipo A e di tipo B ed è per questo che è chiamato vaccino tetravalente. Il vaccino trivalente adiuvato è un vaccino che può dare uno stimolo immunogeno e quindi una risposta immunitaria laddove questa si può ritenere deficitaria. Può essere utilizzato anche nei soggetti che sono affletti da pluripatologie. Siamo riusciti ad avere un quantitativo di circa 5.000 dosi in più e parliamo di circa 67.000 dosi complessive di vaccino destinati all'area vasta 1. La distribuzione avverrà il 6 di novembre, quindi mercoledì 6. Tutti i medici di medicina generale nei tre distretti fanno peso rubino, avranno a disposizione il vaccino. Questo cosa significa? Che siccome si sta parlando in questi giorni di quando parte la campagna antifluenzale che compatibilmente con gli impegni ambulatoriali, in teoria già dal 7-8 di novembre i medici potranno fare il vaccino antifluenzale ai loro pazienti. Secondo le stime dei casi segnalati al distretto di prevenzione saranno migliaia le persone che saranno messe a letto dall'influenza che arriverà come picco tra la fine di gennaio e i primi di febbraio. Quali sono le previsioni? Che tipo di influenza avremo e quante persone potrebbero essere interessate da questa evenienza? Dunque, non è che si prevede un andamento particolarmente preoccupante o diverso rispetto all'anno precedente. Si prevede che il virus che possa ancora dare problemi o comunque che possa maggiormente circolare, ancora il virus H1N1, questo indubbiamente è un virus che anche nel periodo al di fuori, del classico periodo invernale, nei soggetti che dicevamo prima, vale a dire affetti da patologie di età particolarmente avanzata, determina purtroppo conseguenze importanti a livello respiratorio e quindi si dimostra un virus molto aggressivo.